Vogliamo dare spazio proprio a questo momento straordinario. Andiamo avanti e partiamo con il primo numerino. Sentiamo un po' che succede, eh? Le voci registrate del giovedì. Beh, il primo è occupato. E vabbè, ragazzi. E se il buongiorno si vede dal mattino? A mardino! Tutto in diretta. Proviamoci ancora. Attenzione. Attenzione, sentiamo che succede, eh? Se lo stiamo a beccare qualcuno. Forza, forza, forza. Vediamo in perterriti Ivano e Simone al di là del vetro. Ci prendiamo, eccoci qui. Ultimi venti minuti di tappi, eh? Questo giovedì. È un becchia. Pronto? Pronto! Pronto, salve. Sì, stasera posso parlare, è almeno sporco, eh? Ma chi è? Sì, sono uno sporcone. Può sapere chi è? Tutto, 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 tutto di farei, tutto, tutto. Dal beccontropello. Pronto? Pronto? Ha messo già giù? Mannaggia. Eh, vabbè. Andiamo avanti, va? Sentiamo ancora che succede. Tutto in diretta, barba e contropelo, eh? Il stile d'uncino è straordinario. Il mito, il mito. Però devo dire, te lo preferisco con la voce telefonica. Eh, sì. Ormai lo abbiamo conosciuto così. Vediamo. Pronto? Pronto! Pronto? Sì, come stai? Chi è che parla? Sai bene? Eh, ma voglio sapere chi è che parla. Come stai? Sai bene? Niente, 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 niente. Siamo sfortunati. Proviamoci ancora. Tutto in diretta. Sentiamo un po'. Attenzione, eh. Sapete che le voci registrate è un momento letteralmente in diretta. Quindi dipende anche dalle vostre segnalazioni. Ma noi non ci arrendiamo. Anche oggi faremo il botto. Pronto? Sì. Pronto? Chi è? Sono Ancelo, chi è? Uè, Ancelo. Ma chi sei? Non ho capito chi sei. Eh, chi sei? Mi scusa, mi scusa. Pronto? A chi cerca? Sono Ancelo, chi è? Siamo Guido e Tonino. A chi cerca? Ma chi sei? Non ho capito chi sei. Scusa, che stai cercando tu? Sono Ancelo, chi è? Ancelo chi? Ma chi sei? Non ho capito chi sei. Pronto? Pronto? Io li chiamerei. Pronto? Richiamiamoli perché qui c'è da ridere, eh. Io che erano in due e più il nostro amico. Sì, sì. Sentiamo un po'. Proviamoci. Su suo Ancelo, chi è? Il grande Ancelo. A Falegna Merino. È vero. A Falegna Merino. La troviamo? Vediamo. Pronto? Sì. Ehi, Angelo. Io non lo so, ma chi sei? Scusa. Scusa, mi scusa. Siamo Guido e Tonino. A chi cerca? Stai, questo è qualcuno che vuole rompere il cazzo. Scusa, che stai cercando tu? Angelo chi? Ha messo giù. Va bene, va bene. Ancora un numerino. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo davvero tantissimi numeri segnalati da voi, eh. Beh, certo, è chiaro. Sentiamo un po' che succede. Cosa succede? Cosa succede, città? E qualche cosa. Guarda, stiamo scledando, eh. E di confusione, guarda lì. Che male. Che tu cazzo. E questo, certo. E quanto sia il denaro? E che no? E che no? Vieni a collo, soprattutto. Guarda. E io che c'ho il mal di stomaco. Oh, ce l'ho mica te. C'è lui, mi chiedevo. Fatti, fatti, fatti. Chi è? E tu come ti senti? Chi è? Tua moglie accaldata, ti dà gli ormoni. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, chi è? Io sono Dora. Chi Dora? Io sono Dora. Eh? Ho pulito Dora, quindi sì? Oh! Pronto? Pronto? Una brava vestuna. Niente, niente, ragazzi, sfortunati. Proviamo l'ultimo, mi sa? Dai, tutto in diretta, poi il gran finale con i tappi. Eh, sì. Ne sentirete delle belle nel gran finale, eh? Vediamo. Eccoci. Pronto? Pronto? Chi è? Sono Ancelo, chi è? No, ho sbagliato. Ma chi sei? Non ho capito chi sei. Pronto? Pronto? Sì? Sono Ancelo, chi è? Penso che ha sbagliato. Ma chi sei? Non ho capito chi sei. No, tu chi sei? Eh, no, veramente no. No, veramente no. Ma scusa, ma tu chi sei? Pronto? La dobbiamo chiudere qui, mi sa, eh? Non ce la facciamo, no? Non ce la facciamo, no? Vabbè, ci fermiamo. Piccola pausa e tra poco il rasci finale dei tappi. I tappi, su Radio Kis Kis Napoli.